Grazie Presidente. Io, nel poco tempo che ho, Presidente del Consiglio, volevo parlare più che della nostra risoluzione, dove trova alcuni impegni da noi formalizzati nella risoluzione che tutto il gruppo ha firmato. In quegli impegni ci tengo a sottolinearle, visto che lei ha parlato dell'operazione Mare Nostrum, anche la parola sicurezza, che lei non ha citato, ma la quale noi teniamo molto e tengono tanto anche i cittadini. Utilizzo questo mio poco tempo perché lei, nel suo lungo discorso, ha fatto un passaggio dicendo che, siccome non contano gli slogan, non contano gli slogan, ma contano i numeri. Allora, di numeri noi vogliamo parlarle rispetto alla situazione anche economica di questo Paese. Perché nelle sue ultime giornate di campagna elettorale, e parlo della scorsa settimana, dove lei, attraverso una specie di puntata di una televendita con delle slide, ha presentato i provvedimenti che vorrebbe fare, ma che non ha fatto, perché tutti qua conosciamo come è andato qua il Consiglio dei Ministri, e sappiamo che in quei provvedimenti lei ha bisogno di coperture economiche, che non ci sono. E proprio per questo è giusto risalire un attimo alla verità rispetto al suo tour in Unione Europea, al suo incontro con la Cancelliera Merkel, dove dal nostro punto di vista, legittimamente, probabilmente, ha chiesto anche un po' di flessibilità rispetto ai vincoli europei. In tutta risposta, in contraposizione alle sue richieste, i tedeschi le hanno ricordato del fiscal compact ed oggi è arrivato, insomma, un po' il cambio di comunicazione da parte del suo Governo. Lei che ha una visione, ci dà una visione prettamente romantica dell'Unione Europea e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che oggi, in un'intervista, tenta di far credere ai lettori che il fiscal compact può essere un'opportunità per questo Paese. Vede, qualche minuto prima del suo ingresso in quest'Aula, oggi, non si sono riuscite a trovare le coperture per l'emergenza rispetto all'alluvione che c'è stata in Sardegna e oggi la stampa ci dà comunicazione. Sta a lei poi dirci, se è vero o meno, che una Commissione insediata da parte dell'Unione Europea sta pensando, cito testualmente, ad un prelievo annuo automatico delle entrate fiscali di ciascuno Stato per un importo pari ad un ventesimo del debito pubblico, in maniera tale di rispettare il cosiddetto fiscal compact. Presidente, lei dovrebbe sapere che, stante i vincoli europei attuali, stante la richiesta del rispetto del fiscal compact, nella situazione in cui siamo, questo Paese non riuscirà mai a rispettare quei vincoli. Non riuscirà a farlo nonostante la sua ottimistica comunicazione, non riuscirà a farlo perché i tagli lineari della tabella presentata da Cottarelli non basteranno e non riuscirà a farlo neanche dal nostro punto di vista rispetto alle nomine delle società che andrà a fare, ma rispetto soprattutto alle paventate privatizzazioni di quelle società che magari all'interno del contesto europeo tanto potrebbero interessare a qualcuno. Vede, Presidente, noi siamo convinti di una cosa. C'era ancora una cosa, una condizione in più che avrebbe peggiorato il devastante disagio sociale ed economico dei cittadini di questo Paese. Ed era il dare false speranze ai cittadini di questo Paese. Per questo noi oggi le chiediamo di fermarsi, di fermarsi dal punto di vista della sua comunicazione e dei suoi paventati provvedimenti, ma di lavorare innanzitutto con umiltà e con un principio di verità che dal nostro punto di vista in una situazione del genere diventa assolutamente fondamentale. Se invece lei, Presidente, glielo dico ovviamente metaforicamente, continuerà a tentare il suo cammino sulle acque, noi le diciamo di indossare un gran bel salvagente. La ringrazio.